Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio Oggi siamo sulla versione global per rivivere momenti trascorsi nella versione giapponese e vedere che cosa mi capita questa volta rispetto alla controparte giapponese E' uscito Kurasame, personaggio che mi interessa tendenzialmente all'interno del mio account giusto per darmi quel boost e permettermi comunque di essere un po' più aggressivo Sarà un problema trovare le risorse per maxarlo, questo devo essere sincero Però intanto cerco di portarmela a casa, poi dopo si pensa al come trovare le risorse per maxarlo Non è un problema Allora, come potete notare non ci sono più le free pool all'interno della versione global Finita la campagna, quindi Kurasame purtroppo l'unico banner forse che sarebbe stato utile con le free pool Non ce l'ha, ovviamente E poi ovviamente gli altri banner che ho volontariamente skiffato per una questione mia personale Ho trovato soltanto l'Ildi di Wall Che comunque mi aiuta relativamente per quanto riguarda anche il completamento di diverse caos E quindi ottenere lingotti per maxare altri personaggi Oggi invece però si punta a Kurasame Kurasame a me interesserebbe trovare anche Seifer in realtà Ma più che altro perché è un personaggio che mi piace Sicuramente non lo maxerei, almeno non adesso Quello che punto è Kurasame 236 ticket Andiamo a vedere Andiamo a vedere cosa ci riserva il gioco Io Spero di poterne spendere meno Il meno possibile Ok, Seifer 35 va bene ma non è quello che mi interessa Vorrei Vorrei veramente trovare tutto presto di Kurasame In modo tale da poter chiudere il banner E potermi concentrare poi sul minimo farming che farò comunque su Bahamut E poi andare a pullare Gladio Gladio Devo andarci bello pesante Devo pullarlo in maniera Abbastanza aggressiva Che lui sarà quello che mi darà veramente Mi darà veramente una mano A portare avanti questo profilo Tra l'altro non so Se effettivamente voglio continuare a gestire Questo mio account global Stavo pensando di venderlo Però forse Non so Magari se c'è qualcuno che è interessato Potrei Regalarlo tramite contest O organizzare qualcosa In modo tale da poter permettere a qualcuno Di avere un account Diciamo Messo abbastanza bene Con parecchia roba da farmare Ordo dorata Dai Oh Ex di Safer Ok Mi piace Mi piace Però Adesso O O O O Grazie a tutti Oh dai, orbo dorata Oh, ld, ottima 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 neanche neanche la orb dorata mi esce oh l'ho chiamata dai dammi la hex di cura esame eh no madonna mia ricominciamo col meme see you soon bye Grazie a tutti. Dovrei trovare solo la ex a questo punto. Questa maledetta ex. Vabbè, almeno ci ho provato, dai. Ne volevo fare una, giusto per provarci. Però mi scordo che sono nel global e quindi... Va bene, la 15. Oh, la 35. Oddio. Un'altra LD. What the fuck. Un'altra LD. Cioè, 15, 35 ed LD. Se mi fosse uscita la ex, sarebbe stata la multi della vita, probabilmente. Però c'è, LD da orbazzurra pure. Non facciamone un altro ormai, visto che siamo a 20k. Cioè, però da orbazzurra non me l'aspettavo, sinceramente parlando. Un'altra LD, tipo ieri con i ROA, nel JP. Orbazzurra, proprio una multi tristissima. Questa invece è stata molto meglio. Questa no. Questa è stata una merda. Questa è stata letteralmente una merda. Eh... Dai. 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 Eh! Madonna! Dai! Eh! Dai però Ma veramente Ok quindi Adesso si va a 60 Con safer Oddio dai Dai Eh Eh vaffanculo però Cioè veramente Mi avete fatto uscire di tutto No vabbè Non credo neanche di Montarlo più di tanto perché Dai Fammelo finire qua Ti prego No vabbè No vabbè No vabbè No vabbè Gli ultimi 5 Quindi già Kurasame mi ha mangiato via 230 ticket 10k Vabbè a sto punto che fai? Ti fermi? Non ti fermi, ci provi Ci provi, devi fare Ormai che me ne frega La situazione è questa Ormai ho tutto Per una ex Ci provo, se non mi esce neanche con ste gemme Mando a fa' un culo tutto Buona la 35 Ecco, credo che mi sia uscita un'altra 35 Che non c'entrava nulla Dai, orb dorata Ora come minimo mi esce la BT E non mi esce la ex Proprio conoscendo la mia fortuna Sicuro mi succede una cosa del genere Già, già sono pronto con le risate Dai, dammi sta maledetta ex Oh Finalmente Madonna mia Madonna mia Oh Grazie 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 Gentilissimo Veramente Mi conviene spendere altre 5000 gemme per una powerstone Assolutamente no Quindi Non spenderò altre 5000 gemme per una powerstone Detto questo Abbiamo finito finalmente la ricerca di Kurasame Spero che il video vi sia piaciuto Non so come monterò il tutto Se velocizzerò i ticket In base alla lunghezza del video Poi deciderò effettivamente che cosa fare Detto questo io vi ringrazio ancora una volta Per essere stati con me Spero che vi siate divertiti Spero soprattutto che abbiate avuto molta più fortuna rispetto a me Ci vedremo prossimamente ancora in giro Spero Se non me la penso e chiudo tutto prima Detto ciò vi mando un saluto Vi auguro tanta fortuna E ci becchiamo alla prossima